Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Magnus Karzen vince la prima tappa del Champions Tour 2023. In finale affronta Icaro Nakamura e allora vediamo la partita in cui Karzen ha vinto contro Icaro Nakamura. Una bellissima partita. Ma giusto se non l'hai già fatto, ti chiedo se siete canati pubblicando qui sotto e attivando la campanella così non ti perderai nessun prossimo video del canale Scacchista Matto. Cominciamo subito. C4 gioca Karzen e quindi potrebbe sembrare un'apertura inglese ma vedremo che dopo poche mosse in realtà si rientra in una banalissima Gambetta di Donna. Gambetta di Donna è che Nakamura accetta, gioca D per C4 quindi lascia la possibilità a Karzen di occupare il centro nella migliore posizione possibile nella migliore combinazione possibile ovvero con entrambi i pedoni D4 e D4 però a quale prezzo? Dal fatto di permettere un'espansione nel lato di Donna da parte di Nakamura con B5 è un'apertura assolutamente teorica, non vi è nulla di sbagliato. E D5, cavolo in D5 addirittura qui considerate che Karzen ha giocato anche contro Nepo in questa stessa posizione ma se non ricordo male, esatto, sto vedendo nel database la stessa Karzen contro Nakamura quindi i due avversari hanno già giocato questa stessa posizione due anni fa quindi conoscono benissimo queste linee cavolo per B5, cavolo in B6 a difesa del pedone in C4 A3, cavolo in C6, alfiere in E3 per difendere il pedone in D4 dono in D7, cavolo in C3, alfiere in B7 è un'apertura molto complessa perché comunque vi sono diversi squilibri vediamo la sottopione del nero che è debole a questi pedoni C4, C7 doppiati e isolati però di contro il bianco ha diverse case deboli la casa B3, la casa D3 quindi molto complicata questa partita da giocare e probabilmente è questa l'idea di entrambi i giocatori che vogliono cercare di creare squilibrio e non pareggiare facilmente tra virgolette la partita dono in C2, cavolo in A5 per poter magari andare in B3 e anche aprire l'adegonale dell'alfiere torre in D1, torre in B8 si posiziona la torre e la colonna aperta questo è un concetto sempre valido alfiere in E2, alfiere in E7 H4, attenzione qui che Karzen passa all'attacco vuole creare delle debolezze delle debolezze nello schieramento del nero anche nel lato di re quindi portando il pedone in H5 in futuro potrebbe decidere anche di spingere in H6 e quindi indebolire lo schieramento del nero nel lato di re un'altra idea di questa avanzata è che questa torre potrebbe anche attivarsi contro la creatura di G3 quindi in questo modo la torre senza bisogno di arroccare riesce a trovare modo di attaccare alfiere in A4, cavallo per, donna per quindi Nakamura cede la coppia degli alfieri perché probabilmente essendo la posizione un po' chiusa questo alfiere secondo Nakamura non riesce ad attivarsi quindi non riesce a sfruttare la sua forza e quindi far valere il vantaggio della coppia degli alfieri torre in C1, cavallo in B3 il cavallo occupa un'ottima casita da un posto in terza traversa quindi super avanzato su colonna aperta e difeso da pedone torre in B1, donna 5 scacco forse non la migliore e qui Nakamura poteva anche banalmente arroccare senza preoccuparsi dell'attacco del bianco in modo tale poi magari da attivare la torre e provare a giocare C5 che è fondamentale per il nero perché in questo modo si libera di una grande debolezza quella dei pedoni doppiati e isolati e poi cerca anche di attaccare al centro quindi potrebbe essere un'idea interessante per esempio arrocco, arrocco, torre C8, donna in E4, C5 qui il nero raggiungeva una posizione assolutamente interessante donna 5 scacco, re in F1 non è un problema per Carlsen quella di non la arroccare ormai ha già spinto il pedone H4, H5 e quindi ha già fatto intendere che per lui l'arrocco viene meno ecco perché probabilmente questo scacco non porta a nulla C5 viene comunque giocata anche senza l'arrocco però è sicuramente meno forte perché è meno forte? perché quando è che bisogna aprire il centro, aprire le linee? quando il re avversario è al centro quindi se noi vediamo che il nostro avversario è al centro la prima propensione ci viene in mente ok ma come facciamo ad aprire le linee? così lo attacchiamo nelle colonne però qui è il nero ad avere al centro ecco perché una mossa come C5 che consente quindi l'apertura e la colonna D non è una mossa semplice da fare H6, Carlsen indebolisce il lato di re del nero e poi cattura in C5 quindi apre la colonna D non c'è alcun dubbio che se il nero avesse giocato prima al rocco e torre in C8 la posizione sarebbe stata assolutamente migliore cambia anche l'alfiere torre in H4 quindi avanzata limitata di torre per attaccare il pelone C4 questa è una bellissima mossa è una bellissima strategia perché è stata creata già dall'avanzata del pelone H4 questa è una mossa sottile di livello assolutamente avanzato a rocco corto ora a rocca e Nakamura però comincia ad essere un po' tardi innanzitutto perché vi è un pelone C4 in presa quindi qui poteva difenderlo con torre in C8 probabilmente non l'ha giocato perché vuole un attimo proteggersi il re che appunto si trova al centro alfiere per C4 torre in C8 adesso alfiere per B3 donna in B5 scacco donna in E2 donna per B3 e qui Carlsen si ritrova con un pelone di vantaggio quindi il pelone in C4 è stato catturato senza alcun controgioco quindi Carlsen è invasato in un pelone torre in B4 donna in A2 torre in D1 le torri si posizionano benissimo su clone aperte A5 da fastidio da torre in B4 che avanza in B5 A4 donna in E4 attenzione a questa regina che potrebbe minacciare i matti il famoso matto con il pedone e la regina che attaccano il re nero quindi la regina nera torna a difesa allora si cambia la regina perché qui Carlsen è invasato in un pedone ovviamente sa vincere questi finali e quindi cambia tutto torre in D4 attaccando il cavallo in C4 torre in C8 qui perché non va cavallo per B2 no in realtà si poteva giocare probabilmente a Carlsen non piaceva l'idea di lasciare campo al bianco di attaccare il penone F7 però in realtà cambia cambia poco che comunque dopo torre in C8 arriva torre in D7 e infatti adesso gioca con l'ordine B2 si è solo un'inversione di mosse cavallo in G5 torre in F8 guarda la passività dei pezzi del nero perché è vero che Nakamura ha recuperato il pedone in meno quindi ora il materiale è pari ma sfido chiunque a scegliere tra il bianco e il nero di preferire, di voler giocare con i pezzi neri è chiaro che l'attività dei pezzi del bianco è assolutamente superiore quindi non c'è alcun dubbio e qui il bianco sta nettamente meglio la partita è quasi vinta ormai torre in D4 torre in C8 torre in F4 per attaccare sempre il penone F7 scacco scacco revia scacco basta evitare gli scacchi e ora per difendere il penone F7 il nero deve difenderlo con la torre a questo punto torre in B4 si sfrutta un'altra debolezza quella del penone A4 quindi sempre creare più debolezze avete visto come sarà creata la debolezza del penone F7 con la spinta H4 H5 H6 mentre l'altra debolezza è il penone A4 in questo modo più debolezze ci sono più sarà facile far cadere la posizione quindi cade tutto e con il C8 scacco re in E2 torre in C8 cade A4 qui si può catturare il penone A3 no perché c'è matto c'è matto c'è torre in B8 e quindi matto il corridoio perché il penone H6 controlla la casa in G7 torre in C8 torre per A4 cavallo per E5 torre in A7 si torna all'attacco della settima traversa qui è fortissimo il penone H6 e quindi giustamente il nero cerca di rimuoverlo per liberarsi ma per fare ciò deve lasciare la difesa del penone F7 torre in B8 F3 qui praticamente la partita ormai è quasi finita assolutamente indirizzata Nakamura cerca un po' di complicarla con qualche scacco al re re in D4 torre in D2 re in E3 addirittura qui il bianco poteva anche andare a dare scacco matto re in E5 re in F6 e matto è difficile da evitare per il nero forse è impossibile quindi qua via proprio matto però re in E3 vince comunque torre in A2 cavallo in G5 attenzione qui che si minaccia matto in una cavallo di uno scacco ultimo scacco possibile da parte di Nakamura e dopo aver mosso già abbandona perché abbandona? perché banalmente dopo re in F4 non ci sono più scacchi e alla prossima si può andare in pre-move ok non in pre-move perché il nero può essere giocatore per la 3 però a qualsiasi praticamente arriva torre a 8 scacco a re e poi matto bellissima partita di Magnus Carlsen che si conferma uno cioè il miglior al mondo possiamo dirlo anche se non giocherà il campione del mondo non c'è alcun dubbio che è uno dei giocatori più forti ma dell'intera storia scacchistica e vince la prima tappa del Champions Tour che continuerà con altre 5 tappe e poi direterà il campione finale fatemi sapere nei commenti se avete seguito questo torneo se vi è piaciuta la partita e vi chiedo di lasciare un like se è così vi lascio qui di video in sua impressione ciao